Silvio Berlusconi, milanese, 49 anni. Classico esempio di uomo che si è fatto da solo. Comincia con l'edilizia negli anni del boom, ma diventa un nome soprattutto con le televisioni private e con l'editoria. Dice di dormire non più di quattro ore per notte, qualche volta parla di sé anche in terza persona. Ha detto, ad esempio, il 92% degli italiani adorano Berlusconi. È inutile accusarlo di aver creato un monopolio. Risponde che le sue sono le dimensioni giuste per una sana economia. I critici hanno qualche obiezione sulla consistenza dei suoi programmi televisivi, ma lui risponde convinto che sta facendo cultura e che la esporterà per far felici anche i francesi, gli spagnoli e possibilmente i tedeschi. Per il momento però ha importato. Berlusconi pensa, credo, a un'Europa di Berlusconi. E stiano attenti gli americani. È la prima volta che appare in televisione, e la sola condizione è stata andare a riprenderlo nei suoi studi. Perché no? Qualcuno ha scritto che siamo andati a Canossa. Va rettificato, credo. Siamo stati a Milano 2. Come gli spettatori vedono, questo non è il solito studio di Spot, ma è uno studio di Canale 5, di cui sono ospite per questa intervista. Ovviamente ringrazio. Dottor Berlusconi, lei è il personaggio di questo, dicono di lei. Sbaglio è un momentino un po' difficile, un po' complicato per lei. Col Milan, situazione incerta. Non c'è ancora un decreto che stabilisca quali sono i diritti delle televisioni private. In Francia questo Macaroni, che è arrivato per dargli una televisione nuova, non è proprio gradito da tutti. La mia visione è un po' particolare o risponde in qualche modo alla realtà? Beh, c'è un poco di vero, ma la situazione non è così preoccupante come mi sembra lei. Io non voglio dipingerla così, ho l'impressione che sia. Non è così. Non stavo dicendo come la dipinga, ma come la pensa. Ma guardi, innanzitutto bisogna distinguere per il Milan, quello è un affare di cuore e quindi lasciamolo nella sfera dei sentimenti. Qualche miliardo, un affare di cuore di qualche miliardo. Costoso, è un affare, ma anche le belle donne costano molto magari. Direi che anche il cuore però non può spingere nessuno a entrare in una palude e oggi il Milan è in una situazione per cui c'è bisogno veramente di fare un po' di bucato. Stiamo ad aspettare che qualcun altro, noi non lo possiamo fare, faccia questo bucato e noi speriamo di poter entrare e magari... Fornendo i detersivi, anche tanta pubblicità che si fa, no? Facciamo solo la pubblicità, però non si sa mai, non si può mai sapere che cosa sarà il futuro di un gruppo che si muove in diverse direzioni intraprendendo. Per quanto riguarda la situazione dei pretori, beh, mi sembra che la recente sentenza del Tribunale di Torino abbia confermato quello che la giurisprudenza aveva già dato come un fatto acquisito. C'è stato un pretore che ha interpretato il diritto in una certa maniera e a mio parere contro il diritto stesso, contro la giurisprudenza che si è ormai venuta consolidando sull'argomento, contro il governo che aveva dichiarato di ritenere ancora vigente il decreto dell'anno passato, contro il Parlamento che sta lavorando a una nuova legge da un anno circa e credo anche e soprattutto contro il buonsenso e contro la gente. Non voglio dare nessun giudizio, ma la gente sa benissimo dare lei i giudizi. Per quanto riguarda la Francia, beh, e noi stiamo facendo in Francia una cosa un po' folle, fare una televisione in due mesi è una cosa quasi impossibile. Ma fare una televisione ai francesi deve essere ancora più complicato. I francesi certamente non possono soffrire che ci sia qualcuno che vada in casa loro a fare qualcosa magari pretendendo di saperla fare meglio di loro. Lo sa che durante una trasmissione il conduttore aveva sul tavolo un modellino di Tour Eiffel e stava interrogando un giapponese, ha detto piuttosto che darle a un italiano la do a lei, che è il massimo del disprezzo per l'italiano, naturalmente. Sì, ma no, non c'è disprezzo per gli italiani, è che loro effettivamente si ritengono, e anche questo è un fatto di simpatia, si ritengono superiori, un popolo superiore. Cambiano anche la storia per questo, no? Se lei domanda ai francesi di Giulio Cesare sono convinti che Giulio Cesare prendesse delle batoste sacrosante. Non a caso Asterix batte sempre il cattivone che è Giulio Cesare. In questo caso è lei. Sì, in questo caso io sono stato dipinto in mille modi anche come il diavolo italiano. Ho visto qua proprio un settimanale che è uscito due giorni fa a Parisi, tre giorni fa, l'evento che dice Berlusconi il rapporto che emitterà Nukashi, il rapporto che emitterà Nukashi nasconde, cioè l'ambasciatore di Francia avrebbe detto cose poco favorevoli per lei e Mitterrand le avrebbe messe da una parte. Sì, ma non è proprio così, no, le cose no. C'è stato un rapporto dell'ambasciatore di Francia che ha invece detto delle cose giuste per quanto riguarda il nostro gruppo e poi alla fine ha detto che noi non avevamo un progetto culturale come la Francia si aspetta che debba avere una televisione commerciale. E da questo, questo si è giunto a tante voci che pretendevano che noi facessimo soltanto della televisione americana. Noi abbiamo potuto spiegare che su 54 programmi il 30% sono programmi di informazione, di moda, di cultura, che cerchiamo proprio di non fare una televisione americana. Tanto è vero che il 60% del nostro budget lo spendiamo in produzioni originali e abbiamo anche cercato di far vedere la nostra televisione, soprattutto agli addetti ai lavori, cioè alla stampa, che all'inizio ci ha trattato malissimo, ma che poi via via si è modificata. È migliorata. E ci hanno fatto il regalo di una campagna straordinaria. Nessuna iniziativa e nessun personaggio neppure in Francia ha avuto una campagna così insistente, continuata per due mesi. Siamo stati veramente tutti i giorni sui giornali. Quando io ho presentato al mondo della pubblicità una volta, la seconda volta al mondo degli industriali e poi nella stessa giornata ai giornalisti, il palinsesto della Senca e un'immagine di tutto il lavoro che noi stiamo svolgendo in Italia, siamo stati addirittura ad occupare tutta la prima pagina su un numero incredibile di giornali, giornali anche contrari come Liberazione, ci hanno dedicato tre pagine, siamo passati in diretta in tutti i telegiornali delle reti di Stato, abbiamo occupato tutte le radio che in Francia sono una cosa seria. È contento di tutto questo? Ma no, io diciamo che stiamo lavorando per arrivare a partire il 20 di febbraio, non è una cosa semplice, è una grande sfida, speriamo di non perderla. Bene, senta, dottor Berlusconi, lei è un simpatizzante di Craxi, dei socialisti o è un generico Lib Lab? È meno comprometente essere Lib Lab? Lib Lab, liberal laburista. Liberal labile anche. Ma io di liberal laburisti o di Lib Lab veri proprio ne conosco uno solo che è il mio amico Enzo Bettiza, soprattutto nei giorni di pioggia, perché è uno splendido impermeabile inglese che lo fa molto lab. Io faccio l'imprenditore, credo nell'Occidente, credo nel libero mercato, credo nella libera iniziativa, credo nel progresso sociale e simpatizzo nel senso etimologico del termine con chi ha le stesse mie idee. Ma lei vede più spesso Craxi o Demita per fare un caso? Io sono amico di Craxi da lunga data, anche in tempi non sospetti, lo stimolo apprezzo e andando in giro per l'Europa rilevo che è tra gli uomini politici che hanno maggiore statura internazionale, questo mi fa molto piacere. Abbiamo un carattere diversissimo e sono anche amico di moltissimi altri uomini politici, poi quali facendo io l'editore sia di televisione che di carta stampata ho speso dei contatti. Con Demita li ha sti contatti? Ho avuto anche dei contatti con Demita. Cordiali? Diciamo che sono stati dei contatti che non sono sfociati in un amore particolarissimo, ma che non sono stati neppure dei contatti sgrattivi. Lei crede che senza un governo Craxi ci sarebbero stati tanti decreti Berlusconi, almeno un paio penso? Io credo che assolutamente ci sarebbero stati dei decreti per rimediare a una situazione che non era una situazione che la gente condivideva. Anzi il fatto che Craxi fosse il Presidente del Consiglio era una remora essendo nota la sua amicizia per me e la mia per lui. Invece con un atto che ritengo coraggioso, Craxi e con lui tutto il governo, perché poi è stato un decreto che è stato votato all'unanimità dai membri del governo, un decreto che poi anche tutte le indagini che sono seguite hanno dimostrato essere giusto. Il 92% degli italiani ha giudicato giusto l'operato del governo in quell'occasione. Come fa ad avere tante attività che vanno tutte bene? Cosa vuole che le risponde? Che siamo bravi! Ma questo mi pare che sia anche dimostrato. Direi che ho la fortuna di lavorare in un gruppo particolarissimo, con dei collaboratori formidabili, legati insieme non soltanto dall'entusiasmo per i traguardi che abbiamo, ma anche da una grande amicizia. Un gruppo direi in cui spendiamo anche molte forze per formare gli uomini e quindi si hanno dei risultati. Lei pensi che l'hanno passato per esempio per un'azienda, la più giovane nostra, abbiamo fatto 60 giorni di formazione. Io ho condotto direttamente questi 60 giorni rubati alle feste, cioè 30 weekend rubati al lavoro. Proprio questo mi sorprende. Lei non ha fatto quante colazioni di lavoro? Quante ne ha fatte? Ma questo è un conto delle mie segretarie, più di 150. Tutte queste mangiate funzionali, terribili, no? Sì, terribili per la linea, invece producenti per i risultati. Mi scusi se mi cito, ma una volta io ho scritto con un po' di malizia che se lei avesse un puntino di tette farebbe anche l'annunciatrice. Ho l'impressione che lei faccia un po' tutto, adesso mi sta dicendo che ha fatto 150 colazioni, che ha fatto tre mesi di corso. Ma non le viene mai mal di testa? Non mi viene come mal di testa, mi viene anche l'influenza e il mal di gola come adesso, sente che voce che ho. No, una voce suadente. No, no, ho una voce molto bassa. Un po' arrochita. Arrochita e bassa. Ma io ritengo che anche col mal di testa e con l'influenza si lavori benissimo. Anzi, viva l'influenza, perché si riescono ad eliminare molti incontri che magari si è costretti a fare solo per cortesia, si sta a letto, col telefono, si ha tempo per pensare, per scrivere, per parlare con tutti. Anche le malattie sono un'occasione per lavorare? Beh, se uno ha delle cose da fare non ha nemmeno il tempo di considerarsi malato. Qual è il segreto del suo successo? Oddio, segreti. Segreti non ce ne sono. Segreti è lavorare molto, ma poi anche il successo, in fondo, bisogna vedere, perché vede se si danno gli esami tutti i giorni. Io credo che guardando indietro alle cose che insieme con tutti i miei siamo riusciti a fare, c'è il rischio di sentirsi un po' stanchi, perché sono stati sei anni la prima realizzazione edilizia per 4 mila abitanti, dieci anni la seconda, dieci anni Milano 3 per 15 mila abitanti, poi ancora il girasole, 8 anni di costruzione, più chissà quanti anni di gestione. Ma quante cose fa? Lei, edilizia, televisione, editoria, poi vorrebbe fare anche i biscotti, se non sbaglio, ma poi che cosa fa ancora? No, no, non ho una vocazione straordinaria per i biscotti. No, abbiamo 4 divisioni nel gruppo che danno al gruppo la possibilità di reggere tutti i 20, nel senso che quando un mercato va meno bene c'è l'altro mercato o gli altri mercati che sostengono il gruppo e i risultati peraltro sono molto buoni, quest'anno siamo riusciti anche a fare un bel traguardo, siamo riusciti a chiudere l'esercizio con degli utili cospicui e finalmente era il mio sogno, senza più debiti a breve, anche con una cifra cospicua nelle nostre casse. Quindi i risultati sono buoni, ci incoraggiano ad andare avanti nella stessa direzione. Qual è il modello umano a cui lei si ispira? Lei ha fatto un saggio su Sant'Omaso d'Aquino, se non sbaglio. No, su Tommaso Moro. Ah, vedi, siamo sempre fra i santi però, ma c'è qualcun altro che le piace di più? No, io ho fatto questo saggio su Tommaso Moro perché all'università ho lavorato sul suo libro dell'Utopia, poi facendo il mestiere che ho fatto nell'edilizia pensavo sempre di fare un mio modello di città senza automobili, con tanto verde, senza falasteri, senza colate di cemento che sono riuscito a fare. Il martirio di Tommaso Moro e le sue visioni in tante costruzioni, no? No, no, non è il martirio, era che lui pensava che tutti dovessero fare il meglio per migliorare il mondo. Lei è un cattolico? Io sono un cattolico, sì, praticante. Senta, dottor Berlusconi, le leggo questa frase che ha un certo interesse. La TV di Berlusconi ha migliorato le condizioni di vita degli italiani, ha contribuito a ridurre l'inflazione, incentivato l'economia, promossa la democrazia politica. Riconosce l'autore di queste parole? Ma non so se sono parole attribuite a me. I concetti sono concetti che io ritengo corretti e che perciò sostengo. Per quanto riguarda il livello di vita, basta accendere una televisione, c'è un'offerta di spettacolo a ogni ora del giorno e della notte, è notevolissima e anche quello che fa la RAI è migliorato molto. La concorrenza ha fatto bene anche alla televisione pubblica. Per quanto riguarda l'impulso all'economia, è innegabile. La televisione ha sospinto le vendite di molte aziende che hanno potuto fare dei risultati importanti. Per quanto riguarda il tasso di democrazia del Paese, la presenza di molte voci è certamente un aumento della democrazia stessa. Basti ricordare, per esempio, le ultime elezioni amministrative, noi abbiamo avuto più di mille candidati che sono passati sulle nostre reti. Quindi credo che tutto questo sia veramente un portato positivo della televisione commerciale. Senta, dottor Berlusconi, per concludere, io gli ho fatto delle domande, ma c'è qualcosa che lei vuol dire e che io non le ho chiesto? No, io sono lieto di averla ospite qui nei miei studi. Vede che dietro di me c'è una pianta dell'Europa che è la nostra prossima avventura. Abbiamo fatto qualche cosa prima di oggi, adesso dobbiamo dare gli esami sulla televisione per la Francia, sulla televisione per la Spagna, su una società di programmi europea per poter fare dei programmi che si possano confrontare sul mercato internazionale con i programmi americani e poi la televisione per l'Europa. A quando l'America? Dopo Colombo Berlusconi? Abbiamo ancora moltissimo da fare per la televisione in un'Europa che dice di volersi dare una unità, ma che è ancora molto lontana da questo. Io credo che lo sforzo che stiamo facendo in Francia è veramente importantissimo, importantissimo per l'Italia, perché è l'avvenimento più rilevante sul piano dell'esportazione, delle nostre idee, della nostra cultura, della nostra esperienza, del nostro know-how e anche credo un sostegno importantissimo ai prodotti della nostra industria che in Francia e in Europa non trovano le televisioni commerciali come supporto per la promozione dei prodotti stessi. Ma credo che sia un fatto importantissimo nella via che porterà, si spera, all'unione dell'Europa. Credo che la televisione come in Italia ha fatto l'unificazione dell'Italia, l'unificazione del linguaggio, l'unificazione della cultura, così possa essere un momento importante per un'Europa in cui i paesi si possano conoscere meglio e conoscendosi meglio si possano anche legare da vincoli di amicizia. Ci piacerebbe, ci piace di essere tra i protagonisti di questa avventura e speriamo di farcela. Grazie.